Buon sabato a tutti e stamattina nella casella della posta è arrivata la tessera del Plenair Club credo almeno perché qua si sente se non è una carta di credito o mancomat è la tessera del Plenair Club e siccome è appena arrivata la apriamo assieme e così vediamo cosa c'è dentro intanto dopo l'iscrizione le newslettere e tutto sono già arrivate ho già provveduto all'iscrizione eccolo qua infatti questa è la tessera questa è la tessera ecco andrà poi ripulita bene perché come tutte le tessere c'ha l'appiccicaticcio dietro che poi va tolto vabbè poi va messo dentro va tolto bene comunque vedete c'è scritto Plenair Assistance con tutti i numeri e questa è la mia tessera c'è la tessera numero vedete eccolo qua questa è la mia tessera ma non c'è solo quella c'è qua anche qua l'invito a registrarmi ora è facile spiega anche come fare e qua mettiti comodo scarica Plenair Club abbonati solo a soli 3 euro al mese acquista al prezzo dedicato alla camper keycard e quindi adesso avete visto quando ci si scrive ho il club del Plenair questo è ciò che arriva insieme a questo nella busta insieme a tutti i numeri e quindi